Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Quest'oggi andremo a esplicare quella che è la nostra collaborazione che ormai da mesi, da tempo, che è sotto gli occhi di tutti. Quella tra il nostro canale Johnny Hyper Z, quindi canale di riferimento sul Pro Club, con MyProCard. O comunque con Teda Arco, che è un artista a tutti gli effetti per quanto riguarda la realizzazione dei loghi del Pro Club. Con Teda, lo chiamiamo così, abbiamo ovviamente anche fondato insieme Best Team e quindi c'è una collaborazione diretta che col tempo andrà sempre di più saldata anche grazie a dei contenuti particolari che andremo a vedere qui su questo canale, ma anche sui canali di MyProCard, sul sito e sui loro social. Come da titolo quest'oggi andiamo ad analizzare quelle che sono state le opere d'arte virtuali, chiamiamole così, che sono i loghi del Pro Club realizzati da Marco Tedesco. Adesso li vediamo in serie tutti quanti e facciamo già i complimenti perché sono tutti bellissimi e soprattutto tutti distinguibili. Io credo che la caratteristica più importante in assoluto sia proprio quella del riferimento della distinguibilità di un logo rispetto a tutti gli altri. Perché un logo di Marco si riconosce a prescindere. Se state guardando questo video e siete, non so, capitani o gestori di qualche squadra, team e avete voglia di un restyling, ragazzi vi consiglio di contattare il signor Tedarco. Perché come avete visto sono loghi di alto pregio. Comunque avremo una classifica quindi dettata da me, quindi un mio gusto personale o comunque una mia scelta di questi dieci bellissimi loghi. Quindi per me è stato complicatissimo stilarla perché anche chi si troverà in decima posizione, che vedrete tra poco, avrà un valore altissimo di voto perché sono tutti e dieci di alta fattura. Qui sotto vi lascio comunque i social di Tedarco per contattarlo in qualsiasi caso, ma adesso andiamo a vedere la parte più importante, più corposa del video dove farò una mia classifica. Prima di partire vi dirò con quale criterio l'ho impostata. Pronti? Via! Allora ragazzi eccoci e vi volevo dire inizialmente come ho definito questa classifica dalla posizione numero 10 fino alla prima posizione. Criteri sono tre. Design, colori e distinguibilità. Ovviamente come avete visto già nella introduzione c'è il logo di Best Team, per ovvi motivi io sono di parte, quindi questa è una mia classifica personale, capite benissimo che molto probabilmente si troverà nelle prime posizioni. Quindi sono leale con voi, purtroppo Best Team non potrà essere tra le ultime posizioni, per ovvi motivi. Complimenti a Tedarco e soprattutto complimenti alle squadre che hanno accettato questa commissione perché sono tutti loghi incredibili. Comunque, basta andiamo a vedere la decima posizione, quale logo andiamo a posizionare. Quello degli MC Revolution, quindi ho dato una votazione uguale a Design 8, Colori 7, Distinguibilità 8, quindi per un totale di 23 punti. È un logo particolare, forma circolare con un offset del cerchio, quindi i colori penso che siano interessanti. Una distinguibilità ottima, però ovviamente loghi circolari se ne vedono, quindi molto bello, caratteristico. Si trova solamente all'ultima posizione perché veramente sono tutti eccellenti. E ho dovuto fare per forza una scelta. Comunque, a me piace, poi sapete il giallo è un colore che apprezzo molto, come vedete nel canale, arancione o comunque simile al giallo. I colori molto vicini, le gradazioni molto vicine al giallo. Quindi complimenti, gran bel logo. Andiamo adesso nella nona posizione, andiamo a vedere invece il logo degli Up and Down. Con votazione relativa per quanto riguarda il design, 8, Colori 7, Distinguibilità 8, con un totale di 23 punti. Sicuramente uno dei loghi più particolari, quindi distinguibili. Abbiamo un design diverso dal solito, abbiamo una figura, quindi una tematica interessante. Colori caratteristici e distinguibili sicuramente. E comunque la figura che fa da protagonista è veramente centrale. Siamo nella nona posizione, ma ripeto, ha dei voti altissimi perché è un logo che mi piace. E sono sicuro che chi l'ha commissionato è stato veramente, veramente entusiasta del lavoro svolto. Grande soluzione e un voto comunque alto. Adesso passiamo all'ottava posizione. Andiamo a vedere il logo delle noci. Design 8, Colori ho dato 7, Distinguibilità ho dato 9, per un totale di 24 punti. Sicuramente la cosa più interessante è il design e la distinguibilità, perché comunque i colori rispecchiano un po' quelli di una noce, effettivamente. Quindi la cosa più interessante in assoluto è il design, perché c'è questa figura frastagliata che va a rispecchiare un po' quello che è il processo di aprire una noce. E secondo me la resa è incredibile. La distinguibilità ovviamente è unica, perché capiamo subito di quale logo, stiamo parlando appena lo vediamo, di primo impatto. La scritta è molto particolare, ma soprattutto l'idea, quindi il concept, che sapete è una cosa che apprezzo molto. Quindi credo che la committenza, in questo caso la squadra che abbia ricevuto questo lavoro, sia rimasta veramente stupita. Perché un lavoro del genere è molto particolare e molto difficile da realizzare. Quindi i colori ok, ma la cosa più importante è la distinguibilità di questo logo e un design incredibile. Voto alto. Posizione ottava, ma ripeto, questa è una classifica sempre da top. Alla settima posizione poi troviamo il logo dei Day Gang, uno degli ultimi svolti nel 2021. Molto interessante, ho dato una votazione di design uguale a 8, per quanto riguarda i colori 8. Per quanto riguarda la distinguibilità, 8, quindi per un totale di 24 punti. Un logo circolare, quindi un logo con un design usuale, però con l'offset dei cerchi interessante. Tutto questo contornato con delle colorazioni super adatte alla tematica che stiamo vedendo con il logo. E la cosa più interessante in assoluto, che sia il carattere della scritta, ma anche il disegno centrale, iconografico, dà quel carattere di distinguibilità molto marcato. Quindi mi piace moltissimo, mi piace la completezza, l'interezza, l'idea, il concept. Insomma, un lavoro incredibilmente efficace. La committenza sarà stata sicuramente contentissima del lavoro svolto. E devo dire che non era affatto semplice ricollegare quella che è la sfera di Pro Club, quindi del settore, con un oggetto principale così particolare. Complimenti, eccellente. Alla sesta posizione troviamo il logo degli FC Believers. Molto bello e abbiamo dato una votazione. Alta. Design uguale a 7. Colori, abbiamo dato un voto che equivale ad 8. Per quanto riguarda la distinguibilità, invece 9, per un totale di voto uguale a 24. Come precedenti, quindi un toto di valore equivalente a 24. Il design è molto bello. Diciamo un po' usuale nelle forme, no? Come i classici scudetti. Però la cosa interessante è che questi colori che vanno a mescolarsi nelle gradazioni e anche quelle figure interessanti di stelle luci appaiono in diverse gradazioni, diverse anche forme, danno un surplus al logo. Quindi i colori interessanti, ma soprattutto il contesto è distinguibile e le due braccia sono ovviamente il protagonista di questa raffigurazione di un logotipo incredibile. Anche la scritta così in alto mi piace ed è un logo comunque che avevamo apprezzato anche in un altro video, non so se vi ricordate. Comunque in tal caso, gran bel lavoro. Alla quinta posizione troviamo un altro logo realizzato non tanto tempo fa, sempre dal signor Tedarco per i First Dark Angels. Un logo molto interessante, un logo appropriato per quanto riguarda la tematica, perché questa forma molto particolare conferisce un design quasi unico, quasi ricercato. Ovviamente la tematica è interessante, ritroviamo tutto questo inglobato nel concetto di colori che sono complementari tra di loro. Comunque il design abbiamo dato un voto che equivale a 9, colori 8 e per quanto riguarda la distinguibilità 8, per un totale di 25 punti. Quindi è un logo ricercato, è un logo bellissimo, credo che sia oggettivo un po' per tutti. Il design è veramente, veramente particolare. Un lavoro difficile, ma anche in ambito proprio di realizzazione, di prospettiva, di raffigurazione. Anche la scritta è ben curata e posizionata con una certa angolatura, insomma un logo che apprezzo tantissimo, che è super distinguibile, unico e credo che abbiate la stessa sensazione anche voi. Bravo Tedarco. Alla quarta posizione invece troviamo il logo dei Black Sails, passiamo i voti, al design abbiamo dato 9, colori 8 e per quanto riguarda la distinguibilità 8, per un totale di 25 punti. Come il precedente voti altissimi, ma la cosa interessante è che su una forma circolare comunque usuale abbiamo questo taglio repentino a simboleggiare un po' quella che è la forma di una bandiera. E quindi credo che su una forma semplice si sia fatto un lavoro incredibile. Un restyling di comunque un vecchio logo, sempre realizzato da Teda, curato nei minimi dettagli. I colori ovviamente sono super azzeccati, fanno riferimento un po' a quella che è la sfera della tematica centrale di questo logo e la distinguibilità ovviamente ne fa da padrona a un voto comunque alto perché non sempre riusciamo a vedere un logo del genere semplice nelle sue forme ma allo stesso tempo innovativo, particolare. Ottimo lavoro e quindi saranno sicuramente entusiasti i Black Sails. Alla terza posizione andiamo a vedere il logo dei Nemesis, molto particolare, sicuramente soprattutto nella forma. Infatti per quanto riguarda i voti abbiamo dato al design 9, ai colori 8 e alla distinguibilità esattamente 9, per un totale di 26 punti. Questo è un logo particolarissimo, un logo che prescinde un po' da tutti gli altri perché è unico. Questa forma che piace tantissimo è performata sicuramente da una scelta dei colori azzeccata. Ripeto, questa altezza del logo, quindi questa importanza, la parte superiore, dà una caratterizzazione di esclusività. La diversità rispetto agli altri loghi l'apprezzo tantissimo. Quindi semplicità nelle forme ma grande cura nel concept. Sicuramente i colori sono giusti ma ancora di più è il fatto della distinguibilità, quindi di riconoscerlo a primo impatto rispetto agli altri. Credo che siate d'accordo e quindi gran lavoro Teda e complimenti anche a chi ha commissionato questo lavoro. Seconda posizione andiamo a vedere il logo dei Made in Naples. Uno degli ultimi lavori di Teda nel 2021 credo che sia la massima realizzazione di un concept studiato nei minimi, minimi dettagli. Infatti nei voti diamo design 9, colori 9, distinguibilità 9. Io credo che qui troviamo un logo semplice ma assolutamente non facile. Che cosa vuol dire? Un design che richiama un po' quelle che sono un po' le forme del classico scudo, comunque forme che ritroviamo ma allo stesso tempo dematerializzato. Quindi convocature che conferiscono flessibilità, dinamismo al logo stesso, è incredibile. Colori super azzeccati, super piacevoli, quindi richiamano ovviamente quella che è la sfera della squadra storica dei Made in Naples. Allo stesso tempo gli danno una marcia in più e la distinguibilità è incredibilmente evidente. Quindi vedendo questo logo si capisce subito che si sta parlando di quella squadra perché ha una caratterizzazione, la parte superiore con un disegno molto molto semplice, lineare ma apprezzabile. La cosa più interessante è la completezza, cioè il logo nella sua interezza è veramente veramente bello. Voto totale 27, quindi il voto più alto in assoluto per ora, credo super meritato. Alla prima posizione ovviamente ragazzi, qua prendiamolo un po' la leggera nel senso che adesso non so se meriti effettivamente la prima posizione ma sono di parte, l'ho detto già all'inizio. È il logo di Best Team, ovviamente è il logo che condividiamo anche con Teta perché siamo i co-founder di questo progetto. Ovviamente la B di Best Team mi piace assai perché ovviamente fa riferimento al metaverso calcistico che stiamo ovviamente sviluppando, progettando sempre di più. Ho dato come voti design 9, colori 8, distinguibilità 10, con un voto totale di 27 punti. Come Made in Naples un voto altissimo, ripeto, personale, molto personale. Però c'è da dire che è un logo secondo me caratteristico perché con un design specifico, semplice, emblematico soprattutto del mondo delle criptovalute. Che hanno loghi molto molto diretti e non complessi da visualizzare. Colorazioni, gradazioni di verde a zeccare perché stiamo parlando di calcio, quindi il manto erboso ci sta. E distinguibilità, beh, è un marchio che dovrà essere importante nel mondo videogame ma anche con quello delle criptovalute. Quindi qua Teta ha voluto dare un messaggio forte, quindi la B deve essere ben visibile e ben distinguibile a primo impatto. Prima posizione dettata ovviamente da un aspetto più emotivo personale. Progetto quindi super ambizioso e bello, ma anche il logo non è da meno. Quindi ragazzi abbiamo terminato con questa classifica dei loghi più belli in assoluto realizzati dal signor Tedarco nel 2021. Spero che vi sia piaciuto, adesso andiamo ai saluti. Ragazzi anche per questo video abbiamo terminato, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, attivate la campanellina per questi tipi di video e molti molti altri. La vostra condivisione, la vostra interazione, le vostre impression sono fondamentali per la crescita della community ma anche per la crescita del calcio virtuale. Quindi state attenti, seguite ovviamente il progetto Best Team perché è fondamentale per noi. È il progetto della vita veramente perché se capite bene quello che stiamo per fare, quello che stiamo facendo, beh, ce ne saranno di belle quindi porteremo comunque novità riguardo questo progetto man mano che andremo avanti. Comunque, tutto questo, ragazzi, basta così per oggi. Vi do un bacio, un saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.